ciao amici oggi vi voglio aprire le porte di questo bellissimo attico in zona punici con una terrazza livello vista mare l'attico che si sviluppa su due livelli ha al primo livello la zona cottura il soggiorno prospicente una bellissima terrazza e ora seguitemi che ve la mostra la casa poi due camere da letto e due bagni vi presento adesso la camera padronale con il bagno e una vista sul golfo con la terrazza livello e poi in un secondo momento vedremo la camera degli ospiti con il proprio bagno grazie a tutti